Io sono felicissimo a nome di tutti i soci della Saronno Point di divulgare questo CD con le canzoni di Natale perché il coro Alpe per noi qua Saronno è la storia, la storia del canto, del canto corale. Pertanto vi invitiamo tutti ad acquistare questo CD perché noi pensiamo che con un piccolo gesto facciamo un Natale che è più Natale.